Ehi, ti senti bene? Sto cercando di avere un momento privato. Colpa mia. Non è così privato, però. Come va? Ehm, bene. Sì? Sì. Fico. Fico? Ti chiami Dom, giusto? Io sono Yasa. Piacere di conoscerti. E incontrerò la mia ex per la prima volta dopo la rottura. E la chiami ancora Rottura? Pensavo stessimo bene, convivevamo, avevamo i biglietti per Hamilton. È un impegno molto serio. Vero. Chi è successo? Mi ha tradito con il mio migliore amico. Tu hai tradito Dom con lui? Così mi ferisci. Ha delle belle braccia, ma di cosa parlate? Lasci che mi dica queste stronzate senza intervenire. Ha detto che ho delle belle braccia. Ho vissuto una cosa del genere qualche tempo fa. Era la sua life coach, a quanto pare gli ha aperto la mente. Tutte le sue mutande sono così. Dovresti cucire insieme 15 di queste per ottenere le mutande che indosso io. La cosa peggiore è che ho lasciato il mio disco preferito a casa sua. Cerchiamo subito un negozio di dischi. Te ne compro una nuova copia. Non ne voglio una nuova. Voglio la mia copia. Ha cambiato la serratura. Ma io non voglio derubarlo. Qualcuno avrà quella dell'appartamento di Jules. Tu falle chiacchierare. Io cerco la chiave. C'è posto anche per me? Cosa credi di fare? No, non stavo... Tenis! Ecco, il ragazzo stava frugando nel tuo cassetto delle mutande. Ma che cosa hai fatto? A volte si deve dire... Vediamo che succede. Va dove ti porta il vento. Dome yas! Yaselton! Dome yas! Yaselton! Dome yas! Yaselton! Sei sicuro che te la senti? Sì. E il tuo uomo mi ha swipato su Tinder la settimana scorsa. Come? Non è vero, non ce l'ho swipato. Dammi il telefono. Né te né altre. Non è vero, non è vero.